Ricordati di mettere un mi piace e iscriviti al canale e attivare la campanellina delle notifiche per per stare aggiornati su tante notizie e io ci tengo tantissimo, dopo ballando con le stelle i due non si sono più lasciati. I passi di danza hanno fatto scattare la scintilla e allieva e docente hanno iniziato a vivere una bellissima storia d'amore, naufragata dopo poco. Almeno così ha tenuto a specificare la cantante qualche mese fa. Ma l'amore non è finito e si vede. Oggi anche il ballerino è ospite di Mara Veniè. C'è tanto affetto tra noi, i due non riescono a non arrossire. La conduttrice incalza, ma state insieme o no? Arisa gela, io sono fidanzata, ma lui no. Poi scatta la gag, cosa vuoi da lui? Non fraintendere, ride Mara, figli? Matrimonio? La cantante di Ero Romantica la zittisce, non dire così che poi gli uomini scappano.